Ragazzi benvenuti benvenuti sul mio canale, io sono Maglus, siamo sul dirupo fischiante, siamo naturalmente sempre sul Star Wars Jedi Survivor, dirupo fischiante perché? Perché si sente praticamente sta musica, penso che alluda a questo, comunque andiamo avanti, ci siamo di visico Ok Aspettavano una navetta, quindi ne arriveranno altri E mo' tutti e due giù, bella che ne hanno fatto, però era, oh qua c'è qualcosa per scendere, un momento Il vento è un tantinello forte Andiamo di qua qua Occhio Mi sa che, perfetta che c'era qua? Ah salesi, mi sa che devo stare, ecco, un po' come lo faccio sto pezzo Scusami Ah ok Or Stiamo attenti Sembra un posto in cui venire in pellegrinaggio Immagina affrontare quel vento solo per trovare un luogo sicuro Già, la promessa di un rifugio è troppo allettante Dove vado di qua, scusami Ah, devo scendere bene Ok Vai Vai Merrin ha detto che questa era la via secondaria, giusto? Spero che Sir abbia un altro tragitto per quei rifugiati Penso la primaia che era Sì Un momento che non so da dove devo andare Così dovrei avere un po' di riparo Dove? Allora io In teoria Forse devo scendere forse Vediamo un po' No, non devo scendere Che poi non c'è stato Un momento Ah ok Perfetto Oddio mio C'è voluto un po' Però abbiamo capito Sentito? È lo spettro Calmati Sarà stato il vento Non so cosa sia peggio Se questi venti O Il prossimo che sento parlare Nello spettro del deserto Hai sentito amico? In arrivo Ci ucciderà tutti quanti Oh Avvicinamento alla posizione nemica Ormai Spacciato Lontardo Che succede? Vago me l'aveva becchiato Ma che sta vago? Ma Renzi è data da fare Perché l'impero non ci ha dato un soprannome? Ho sbagliato Ho sbagliato Questa la prendo io 8 pergamene Vai Fantastico Ok Mi serve aiuto Molto meglio Sembra la zona di prima Ok Penso siamo a scorciatura Sì C'è proprio lo zampino di Merlin Difendimi Ragazzi è meglio Perché batti a questo? Non lo so Ok Sono morti tutti Madonna Lancialo Dobbiamo stare attenti Dobbiamo stare attenti Non lo so ok ok abbiamo capito che non può sto fregato ok 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 è andata oh grande hai visto qualcosa o no? ma non credo penso più che altro occhio a fuoco ma non è che non si rompe niente qua veramente siamo abituati a rotture su rotture c'è almeno una volta ogni tanto ci facciamo una senza vento senza niente c'è la forza della vita ok dici che devo andare di là? eh ci sta qualcosa qua di qua ah no pensavo che fosse una insegnatura e vai vai quindi eventualmente posso ritornare comunque dobbiamo andare veramente di qua ci arrivo visto che scansioni avanza viandante attraversa per andare dove? ah porca miseria ci sta ancora il tizio giù avete capito dove stiamo? eh sì ok meditiamo meditiamo c'ho qualche punto ne dovrei avere due uno no ma niente con uno non facciamo niente cioè non penso che la consumi utilmente secondo me cioè punti abilità due due ormai portarmi avanti guardate le cose che mi servono cioè adesso non sarebbe almeno a me non serve a niente c'è qualcosa qua? no no avevo visto l'insenatura sembrava vai a controllare la nuova unità non è colpa mia riposo riflessione direzione avanza viandante incoraggiante non vuole aprirsi è normale questa abbiamo già vista sì normale che non sia aia l'impero ha portato un nuovo giocattolo l'impero è la ovazione l'impero Ma come combattere? Quello non scherzava, eh, BD? Ma ci ha attaccato con i piedi? Maleducato, scostumato Mi sbaglio Se si girava di più C'erano tutte asse, forse, no? Forse mi sbaglio io Mi ricordo male, poi Bello, 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 bello Ah, no, di là Qui è fin troppo facile finire di sotto Muoviamoci con attenzione Ah, ok, ok Ho sbagliato Devo andare di là Ah, no, invece ho fatto bene Dove vado? Ma dice, forse col vento ce la faccio Ce la faccio più bene Ma ne era contro il vento Ce l'abbiamo fatta Non ci lamentiamo Vai Ma capisco perché Mary Non è venuta con nulla Ormai siamo vicini Ah, ok Oh, porra Boh, beh, se ho bussato un po' Ui, ui, ui Mamma, mamma, mamma Ce ne sta una marea Ce ne sta una marea Sti scarrafoni Tutti qua stanno Uno solo è stato corretto E si è buttato giù Gli altri tutti attaccare Maledetti Io tutta sta mano Non la vedo proprio Poi Ognuno Se riparte Perché secondo me È la nostra navegna Dobbiamo evocuare Prima che gli scambi Arrivino al Tempio Ne stanno mandando un'altra Voglio un busto in prima fila Quando attiveranno quel missione Fermati Arrottetelo In fretta D'annato me il cazzo Ciao Ah già Sì C'è rimasto solo Ci ha fregato L'ho buttato giù Ma Questo ci darà una spinta Ah spin Che c'è Scusami Non ho capito Allora io devo andare Di là Secondo me Ok Ho capito Perché è spintato Dì Ho visto un nemico È ferito Sei rapido Questo lo ammetto Aiuto VD Centro perfetto Comunque alla fine Sono quelli con cui ho maggiore difficoltà Questi con lo scudo Perché avendo poca forza Poi ci fotte il falso di Questo è il secondo Ah è ballerino questo Madonna c'è il Parkinson Si sbatte tutto quanto Aia Allora Due strade Vediamo un po' Noi dobbiamo andare Di qua O di qua Che bello Quando fai così Guarda Che bello Ok Ok E ci dice la fai? Madonna Percorsi proprio Spiegatati Forza puoi farcela Chi è? Io sono Cal Lui è BD1 Sono Pili Non mi aspettavo dei pellegrini oggi Tu che ci fai qui fuori? Mi prendo cura di quello che cresce qui Ma come vedi non è molto Dovresti andare nel sistema di Kobo Laggiù cresce di tutto Magnifico Forse lo farò Di al barista del saloon di Pailun Che ti mando io Penserà a tutto lui Ah giardiniere C'è un materasso addosso Quindi devo sbloccare altri dotti Facendo Ok Ok Bene Questa porta fino al ponte Ok Porta fino al ponte Una botanica in un deserto È proprio smarrita O alla disperata ricerca della sua strada Eh Penso più la seconda Sarà qui a momenti Ah di là forse Bella Eh ma non ho visto eh Madonna Vabbè Mi serve subito uno stim Appunto Esamina Quella formazione rocciosa Ha qualcosa di familiare Veramente Ah di qua si può andare da qualche parte Quella formazione rocciosa Ha qualcosa di familiare Oh porca Ma cosa Ma tipo se salto ce la faccio Arrivare Ah vuoi vedere che se così giù Che faccio Salgono e scendono No Che roba è E li porto tutti sopra Li porto Allora I due in mezzo E due laterali Questa è la cosa Vediamo Quindi due centrali E due laterali Sopra Fuori Praticamente Devo tirare fuori Queste qua Questo 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 A posto Eh 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 Quando c'hai il cervello Che ti scureggia Ok Uh Guarda che ci sta là Molla 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 Sì sì Un altro Gingillo Per un altro Viaggiatore Smarrito E ritrovato Sulla via Per il passo Per questo Onoriamo Il suo sforzo E ricordiamo Per sempre La sua voce Ogni campana Rappresenta Una persona morta Durante il pellegrinaggio Che bello Che bella La notizia Ok I dettori di Steam Riempono parte Dell'indicatore La forza Grande Spero che sia Grande Spero che sia grande Cioè Riposa di pure Che ce ne andiamo Allora Riprendiamo Sì Per forza Ah no Qua anzi Qua si può andare Qui dici che devo andare Sopra Sì Secondo me Ritorno Sopra E vado Oddio Sopra Sopra Grazie a tutti. Occhio, occhio, ma va, ok, ma mo' sei messo bene, questi quelli schifamorti, praticamente c'è, abbiamo spero, wow, anche io. Io posso mattersi a differenza di uno. Addio. Ok, allora la scala doveva essere questa. Guarda, il ponte per il rifugio del pellegrino. Che c'è qua? Vai, vai. Un'altra pergamena. Stiamo abbuffando di pergamene. Ma ti dici che ce la faccio? Forse c'ho il vento a favore. Madonna, sa, piano. Mi serve una pausa. Ma piano piano. Non c'era bisogno di meditare, veramente. Vabbè, però abbiamo recuperato l'altra cosa, dai. Ok. No, ma di qua... No, no, non è il punto di prima, no. Ho fatto il possibile, ma più avanti c'è un'unità imperiale. Ho pensato di avvisarti. Va bene, fammi strada. Questa è chiusa, eh? Ok. La donna, tanta, che c'è? E basta. L'impero è già riuscito a entrare nel tempio? No, ma gli imperiali parlavano di una nuova macchina scavatrice. Muoviamoci. Una nuova macchina scavatrice. Dove te ne vai? Che c'è qua? Vabbè, dove te ne vai? Questa è un sacco di roba. Forse è un sacco di roba. Che è? Merrin. Un momento. Continui a stupirmi. E ancora non hai visto i miei veri poteri, Carl Kepi. Arrivo, eh? Tranquillo un momento. Vedete se c'è qualcosa a questa ora è così tanto prezioso da farci scavare. Ben fatto. C'è capito? Qua su ho preso la pergamena. Vabbè, dai. Aspetta, forse qua c'è qualcosa di buono. Che stava stiamo facendo? C'è... Qua mi perdo qua, eh. Ma non ho capito niente. Voglio vedere un attimo qua se c'è stata, eh. Che secondo me c'è qualcosa di buono. Ho semplicemente aperto la porta. Vai, fantastico, ok. Dai, sì. Sono soddisfazioni queste, dai. Abbiamo aperto la porta. Credi di riuscirci? Non senza un po' d'aiuto. Per fortuna questo sentiero è stato fatto per guidare i venti. Sentito? Le rovine stanno cantando. Viene da quella camera. Allora trova il modo di entrarci. Vai. Ora o mai più. Ora o mai più. Che saltino, ragazzi. Che saltino. Allora, di qua. O di qua. Ok, qua ci sta... Ne... Venire fin qui solo per morire. Non vale la pena morire per un tesoro. Ok. Vai. Venire fin qui per morire. Speriamo che non siamo spoiler. La forza è potente in questo posto. La forza è potente? Ok. Ok, penso che devo andare da... La forza è potente. sul segno ci piaceva facile ma la musica non è che sia tanto simpatico e vi dico la verità che dura pure parecchio dove vado? non pensi che devo andare di hit no? dovevo scendere, questo era tutto ce la faccio a saltare? che è successo? bentornato ehi il campo di lavoro imperiale su masa la base è mezza vuota possiamo attaccare prima che arrivino rinforzi sembra promettente ma marine e grise non sono ancora tornati alla nave appena saranno qui io andrò avanti loro riposeranno sulla mantis sai che non accetteranno di riposare se sei in pericolo non ti tiri mai indietro ed è ciò che ispira tutti noi ma devi ricordare che ovunque andrai ti seguiranno non so di aver esagerato ultimamente ma dopo l'incidenza di grise ciò che è accaduto a grise non è colpa tua ma da quel momento sei avventato ho paura che qualcosa di brutto capiti a uno di voi è saggio riconoscere la propria paura ma non lasciare che determini il tuo cammino concentrati sul momento scegli una direzione e agisci con sicurezza e sappi che nonostante tutto te la caverai cal confida in te confida nella forza esatto salta e premi per scattare scatto per saltare più lontano attraverso le raffiche non ci arrenderemo proprio ora concentrati sul presente andiamo dobbiamo affrontare la tempesta reagiti forte BD lei sa sempre dove guidarmi anche quando mi sento smarrito che è successo eh hai visto che ho imparato guarda tu stessa buon mica se lo tu fai forse adesso riuscirai a starmi dietro scopriamolo che fanno gli imperiali sono all'ingresso del tempio in attesa di qualcosa allora abbiamo ancora tempo però tu sei sempre una zanzara però eh che ci dobbiamo sempre distrarre madonna sempre ok 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 non ci sta niente qua porca miseria vabbè ragazzi questa parte penso che la possiamo terminare qui riprendiamo che vediamo sempre per il prossimo video bye